Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It Oggi siamo su Grounded, un gioco che non ho direttamente ma grazie al Game Pass sono riuscito a giocarlo Allora, diciamo che avevo chiesto, sviluppato da Obsidian, poi distribuito da Microsoft Avevo provato a scrivere Obsidian perché ovviamente chiedo sempre se sono interessati magari a un video in italiano Mi avevano detto guarda tu sei un moscerino citando sempre tra virgolette insomma il gioco E allora poi ho scoperto che mi hanno proprio detto loro, non è che l'ho scoperto, mi hanno detto guarda però se hai il Game Pass te lo giochi Va bene, è multiplayer, lo hanno tradotto in italiano da qualche tempo e anche su Steam Su Steam lo chiamano Early Access, su Microsoft Store e Xbox Store si chiama anteprima di gioco Iniziamo una nuova partita anche se io l'ho già un pochino visto, leggermente insomma Possiamo scegliere la difficoltà, possiamo scegliere uno dei partecipanti insomma e quindi Tra l'altro rievoca un pochino la mia infanzia questo gioco perché giocheremo in sopravvivenza, quindi con fame e sete In un'ambientazione che ricorda molto Tesormi si sono ristretti i ragazzi E qui appunto rievoca la mia infanzia perché ce l'avevo, l'aveva registrato mio padre su videocassetta Il film E tra l'altro quando ero piccolo andammo a Disneyland Paris e c'era proprio un'attrazione con una delle primissime realtà virtuali Con gli occhiali E c'era, poi lo dico perché magari qualcuno di voi lo ricorda, c'è stato Tesormi si è ristretto al pubblico dove si viveva in realtà virtuale un'avventura simile Qua ci troviamo nel giardino, non si sa perché lui all'inizio il protagonista che abbiamo scelto Pensa di essere su un reality o pensa di essere su una candid camera Facendo i primi passi qui poi si accorgerà che non è così Troviamo questo laboratorio dove grazie a questo riusciremo a effettuare tutte le ricerche Abbiamo già recuperato delle cose, vedete io adesso sto analizzando qua Dovrei sbloccare la corda se non ricordo male Infatti abbiamo sblocato la corda grezza E recuperando altri materiali potremo sbloccare altre ricette di crafting Adesso vi farò vedere il menu Io sto recuperando un po' di cose dai germogli e così La cosa simpatica che mi fa ridere, poi da ridere non c'è così tanto All'inizio, quando avviate il gioco la prima volta, il gioco vi dice Guarda, se soffri di arachnofobia sappi che in gioco ci sono dei rani anche molto più grandi del giocatore Quindi se hai paura o hai schifo o hai riberezzo insomma Puoi attivare un'opzione che dovrebbe cambiare i rani in un'altra cosa Però non va a influenzare il gameplay Mi affascina molto questo gioco, come avevo già detto anche nella live di Valheim Perché io da piccolo navigavo molto di fantasia E essendo sempre in montagna d'estate E alternavo appunto giochi inventati da me, insomma con ogni bambino Con i videogiochi E mi immaginavo queste storie o questi possibili videogiochi con insetti Vespe usate per volare Insomma qua siamo Il mio sogno che diventa realtà Anche se, poi chiedo conferma a voi, magari chi di voi l'ha già giocato Se è possibile volare Perché io so che si può planare con i classici soffioni Come si chiamano quelli fiori Proprio quelli dove tutti abbiamo ormai preso soffiato Io intanto sto recuperando un po' di roba Vedete che posso fare ricerca Qua dovrei trovare l'accetta Con questo, con il germoglio, credo No, la segna via, il germoglio puntito Cerchiamo anche questo Con la pelure di moscerino Chissà che cosa si trova Poi adesso vi faccio vedere un po' tutto Carne di punto ruolo, credo, non si può analizzare Va bene Allora in pratica premendo il tasto tab Apriamo il menu E il menu ci dà l'inventario Lo stato Le mutazioni, insomma, che abbiamo subito La creazione Quindi tutte le cose che possiamo creare al momento Divise tra materiali Quindi qua possiamo fare la corda Abbiamo le fibre vegetali La possiamo creare Facciamo due Gli strumenti Vedete che abbiamo l'ascia L'ascia a ciotola La faccio subito Che magari mi serve Salute e snack Possiamo farci la borraccia Possiamo farci con la pelle di larva di coleottero Le bende Possiamo fare disegni Punto ruoli Diciamo insetti impagliati Preparazione cibi Lo spiedo I vari La segnavia Le decorazioni Possiamo costruire una casa Appunto andare a rifugiarci all'interno Ma Noi continuiamo adesso Perché tutto c'è il tutorial Quindi dobbiamo trovare qualcosa di commestibile Io dovrei trovare adesso un funghetto È bellissimo questa cosa Perché tutti gli insetti Che avete sempre visto minuscoli Da piccoli Piccolini nel giardino Adesso qua sono grandezza naturale C'è una grandezza minuscola Qua entriamo in questa macchina misteriosa Ispezioniamo questa macchina E scopriamo che Praticamente Ha una serie di laser Sopra Perché questo è il fulcro Diciamo del tutorial Non riesco a saltare su Prima ce l'avevo fatta Ma va bene Ok Dobbiamo capire Dobbiamo trovare dell'acqua Prima di tutto Però vedete che La macchina La dobbiamo accendere Premendo qui Oh Cosa vuoi Moscerino Siamo veramente piccoli Vedete che qua c'è un laser Che flickera Quindi dobbiamo capire perché E soprattutto capire Che cosa fa questa macchina Poi magari se l'avete già giocato Lo sapete già Ma Rimuovi la causa Dell'ostruzione del laser Individo la causa Dell'indebolimento Di uno dei laser Ok Qua vedete Possiamo Premendo I tasti Ci equipaggi In automatico Quello che Possiamo utilizzare Possiamo mangiare Insomma Dove trovare dell'acqua Dell'acqua Magari sporca Eccola lì Scolati l'acqua torbida Che schifo Eh sì Abbiamo trovato anche un fungo Quindi andiamo a vedere Un funghetto Ok Piantato un fungo Il fungo viene equipaggiato Vedete per me Un altro sto sei Ce lo mangiamo Siamo con i funghi bianchi Che Ok Abbiamo completato anche questo Perfetto Dente di leone Possiamo abbatterlo E' un filo d'erba Questo Sembra un albero Ma in realtà è un filo d'erba Asse d'erba Ah mamma mia Qua li raccogliamo proprio così Vabbè Dovremmo tornare Vedete col tasto M Poi apriamo la mappa Mappa del giardino Insomma Perché non so se ci sia altro Da Macchina misteriosa Stazione da campo Proviamo la stazione da campo Ehm Dobbiamo rimuovere però La causa Dell'ostruzione Quindi adesso Io butterò Tutto qui Quì No onestamente Ok Col tasto G Si butta Le assi le buttiamo lì Voglio andare a vedere Intanto se posso fare Qualcosa di interessante Come creazione Strumenti Lancia Arco germoglio Germoglio appuntito Sono tutte cose Che Il martello Frantumazione Ridurre le cose Ok Banco da lavoro Non lo possiamo ancora fare Bisogna Ah questa è un'erba secca Quindi dobbiamo provare A tagliarla I tool si danneggiano Ovviamente Abbiamo distrutto Ma non abbiamo ottenuto niente Vediamo dov'è La base Andiamo di là Magari se abbiamo Trovato qualcosa Di utile Lo andiamo Un trifoglio Prendo il trifoglio Si Perché se non ero Bisogna andare A prendere Anche un po' Di Eh Uh qua va giù Guarda una formica enorme Sul serio Sono felice Che non sia abbastanza grande La specie Salve Oh Ho sblocato qualcosa Trova dell'acqua pura Salve Ciao È questa dell'acqua pura Vediamo un po' Il tutorial ci sta guidando Veramente tantissimo Adesso Questa è acqua pura? No è acqua torbida No non so dove possa esserci Dell'acqua pura In un prato Però Questo che cos'è? Uh Questo è Mentine ice caps Ah ho trovato delle mentine Interessante Ma si può entrare? Sono tipo i tic tac Questi Si può aprire? Sì Entriamo Mentine Scusate ma Vorrei entrare Ok Mentina Devo Ah devo fare Il Il martello qua Vediamo Vediamo Martello Martello ciottolo Ok vediamo Però mi da un 2 Quindi Secondo me Mi Sì infatti Mi serve uno strumento Un po' più Però è figo Figo Fighissimo Sta cosa Adesso Continuiamo di là Che almeno andiamo Nel Nel laboratorio Vediamo se possiamo Ricercare qualcos'altro Intanto fammi prendere Dei germogli Che sono utilissimi Perché i germogli Sono un po' come I bastoni Diciamo Per i tool Vediamo Ricerchiamo Analizzo Questa Peluria Di non so che Colla per armatura Acaro impagliato Ok Ricerca anche questa Dovrei bere Dovrei mangiare Bisogna tenere ad occhio Perché in basso a sinistra Si vede Tutto quello che possiamo Che ci serve Tetto Stiamo iniziando a trovare Le prime cose Diciamo Craftabili A livello di edifici Di buildings Scudo di punta ruolo Ho finito le cariche Mi sa che non posso più Ricercare niente Tra 12 minuti Posso ricercare qualcosa Eh sì perché ho finito Le cariche Vabbè niente Niente No poi per me Estremamente Estremamente originale Sta cosa Perché quando si muore Si rinasce Perdendo l'inventario Si può andare a recuperare Ovviamente viene insegnato Sulla mappa Tranne quello che abbiamo Nella Nelle barre veloci sotto Allora quella è la casa Vediamo se Andiamo verso quel laser Cerchiamo di capire Il motivo Per cui Il laser Non è più Funzionante Vediamo un attimo Anche il danno che fanno No non posso vedere Lo vedete in basso A sinistra C'è la fame Abbiamo tanta fame Quindi prendo 6 E mangio il fungo Ok Abbiamo mangiato qualcosina La sete anche Dovrei Andare Sì Verso quello Vedete che Flickerà Un pochino Quindi andiamo a capire Il motivo Io ho un vago dubbio Eh infatti Eccoli qua Il motivo Ok Mi scusi Ok Seguiamo il filo Questi qui però Mi vogliono fare la pelle Scusi anche lei Ecco Questi che mi inseguono Devo andare a sistemarli Evitando di lasciarci Le piume Sì poi In giochi del genere Non si può Pretendere di vedere Tutto Nel senso che È la mia Classica volontà Di mettervi L'ennesima pulce Nell'orecchio Allora Ok Qua servirebbe la torcia Che equipaggio Una torcia Quando ti avventuri Nelle aree buie Ed è il motivo Per cui io cercavo Una torcia Ma la torcia Io non ce l'ho Quindi Probabilmente Andremo a morire Male Qui dentro C'è qualcosa Che mi sta inseguendo Lo vedo lì So che voi Probabilmente Non vedrete Assolutamente nulla Io qualcosina Riesco a vedere Per fortuna Ma Non tanto Eccolo che arriva Mi è saltato Mi è saltato In faccia Hai subito Una ferita Creare le bende Via 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 Fuggi sciocco E creiamo le bende Eccolo lì Il maledetto Adesso salterà Come minimo Ma adesso Non salta più Allora Vediamo se riusciamo A fare qualcosa Allora Vediamo un po' Questa è la costruzione C'è tutte le I muri La porta Tutto in erba Spiedo riparo Decorazione Rissorse No Sono arrivati altri Bene Va bene Rigenera Possiamo cambiare Anche il protagonista Ma non lo faremo Non abbiamo neanche più Bisogno delle bende A questo punto Però andiamo a recuperare Andiamo a recuperare Il corpo C'è lo zaino Vedete Di a 70 cm Qua è bello Interessante Il fatto che Non sono metri Ma sono centimetri Però siamo subito qua Quindi non Non dovrebbe essere Un gran problema E dovremmo avere Proprio finito tutto Eh sì Lo zaino è lì Sto giocando Difficoltà media Perché poi La recupera Prendi tutto V Ok Allora No no Vai Vai Con questo Vedete che c'è qualcosa Di qua Ok Qua c'è un po' di luce Riusciamo a orientarci Dici che Ho sbloccato magari qualcosa Una torcia Una torcia magari Torcia La creiamo subito Oh Dov'è la torcia però Inventario Torcia Ok Ah me l'ha messa lì sul 5 Ok Ok ottimo Ok Cerchiamo di pulire Allora Il problema Del cavo qua Eh il cavo Sembra a posto Adesso No Cioè Boh Sembrerebbe Sembrerebbe che abbiamo sistemato tutto Adesso la torcia si sta consumando Tantissimo No Adesso sta andando Ok Poi la musica adesso è tornata un po' aggressiva Quindi Però non flickerà più Sì infatti funziona Perfetto Perfetto Allora Andiamo a vedere Se la macchina adesso funziona Completamente Cioè Diciamo che iniziando così Mi ispira molto questo gioco Così come mi ispirava Un altro survival Che era la modalità appunto survival di scrap mechanic Però Questo mi ispira di più Ma Scusate Adesso Sembrerebbe funzionare Funziona Uno Due Tre Di là Ok No funzionano tutti Quelli lì sono i soffioni che dicevo Con cui si può Poi planare Allora I laser funzionano Però Non va qua Ah no Ma non va proprio questo Ah ok Quello lì Sflickerava E adesso va E poi abbiamo questo Anche È vero È vero Non si vedeva Da lì dietro Ok Dobbiamo abbattere questo Perfetto Sono fatti veramente Benissimo I fili d'erba Sono veramente Spettacolari Ok Speziale nuovamente La macchina misteriosa E faccio Activate Vediamo che cosa succede Guardateci lì Ok Siamo nel bel mezzo Di un esperimento Oddio Che è successo Là verso L'albero Quella sembrava Un'enorme esplosione In lontananza Dove c'è l'albero Dov'è l'albero Eccolo là Indaga sull'esplosione Alla quercia Infatti Andiamo a vedere Andiamo a trovare Dell'acqua Bevi l'acqua torbida Va Eh Però ci fa giù la fame Se non mangiamo L'acqua torbida Andaggia Vabbè Andiamo a vedere La quercia Oh Cos'è questo Un succo Di frutta Ah Abbiamo Abbiamo iniziato A sbloccare Una mutazione Questa Pioniere naturale Filamenti della tua memoria Mappano ogni dosso Crepa Ok Guidati dall'intruttio I tuoi piedini Scivolano il fango A un più velocemente Ok Abbiamo iniziato a fare un po' di Ho preso qualcosa Io vorrei mangiare un fungo Però Vorrei mangiare un fungo Un altro fungo Ok Va bene Andiamo Equipaggio L'ascia Dovrei fare la lancia Però Ciao formica Formica mi stanno simpatiche Perché non fanno male a nessuno Al momento Questa almeno Ok Siamo alla quercia Alla quercia Quello è un Classico Una classica Classica Luce da giardino Presumo Vediamo cosa c'è Ma è veramente Veramente Affascinante Come cosa Indaga sull'esplosione Nella quercia Sì Ma io posso entrare Nella quercia Addirittura No Modello Ron In Harry Potter Linfa Servirà per fare La torcia Come minimo La resina Sì Allora Il ragno Non ho intenzione Di farvelo vedere Perché Ne soffro anch'io Vediamo se possiamo fare Un altro tipo di torcia Adesso Sulla creazione Torcia Eh sì Eh sì Infatti Infatti Ormai Essendo Un esperto Di survival Mi sta diventando buio Dovei trovare un posto Ok Ma l'esplosione Eccola qua Che cosa è successo È andata Che cacchio è Sto coso Questa è una foglia Indaga sull'esplosione Eh ma vedete che qua Uh c'è qualcosa qui C'è qualcosa Qualcosa Un laboratorio Figo Ma questo posto diventa sempre più eccitante Wow Spingi Spingo dei pulsanti a caso Sembra un minigioco dove devo attivarli tutti Ok Sì Stuzzichino Eccolo lì Sono morto Sono morto Malissimo Eh vabbè Uno stuzzichino Folgarato Max Vabbè Niente dovrei dormire Adesso poi Calcolate qua Vedete Siamo partiti da questa valigetta Mi fa pensare un esperimento Perché eravamo qua dentro Riforniti con un qualcosa di liquido E potete giocare fino a 4 amici Vedendo qua C'è il multiplayer Appunto Lo potete Ve lo potete godere con amici A me sembra già comunque ottimizzato molto bene E' un early access quindi un accesso anticipato Quindi avrà nuovi contenuti E' un survival atipico Perché a quanto ricordo nessuno Comunque ha mai tentato un qualcosa del genere Per quanto ci siano già dei gestionali Sul mondo delle formiche Bale varie Però nessuno poi Ci ha mai fatto un survival E calcolando che i survival Ne escono 5 al mese Dal medievale Allo spaziale Questo è Sullo stile Un po' anni 80 Del Restringimento Di ragazzi E rimpicciolimento Di ragazzi Può essere molto interessante Vi dico Allora Sul pass E' disponibile Di xbox Che è disponibile Anche per pc E con il pass Lo giocate gratuitamente Lo potete acquistare Con 6 euro di sconto Quindi L'ho comprata 23 euro Su steam Lo prendete a 29 Salvo poi Eventuali sconti Di nuovo Quindi quello poi Dovete valutare voi Se vi può interessare Per me E' comunque prezioso Un vostro parere Fatemi sapere Che cosa ne pensate Di questo Di questo titolo Mentre io mi Apropinco a recuperare La roba E uccidere Lo stuzzichino Perché Lo stuzzichino E' stato un po' Cattivo Com'è Salve formica Si ma guardate 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 Vabbè La coccinella E' sempre stata Un animale bellissimo Dal mio punto di vista Vediamo se qua sono Bellissime La coccinella Ha fatto a pezzi Quell'affare lì Ma sono bellissime Led bug Eh si Non usciva il testo E' uscito il nome Proprio della Della cosa Bellissima Ma avete visto anche Le formiche Che si Andavano in fila C'è C'è anche Un minimo di ricerca Dietro tutto questo Mi piace Poi adesso Eravamo in conclusione Quindi Dovrei chiudere Però Cavoli Cioè Non mi aspettavo Ah L'ha un altro succo Lì c'è la foglia Bruciata Con l'entrata Vabbè Torniamo dentro Noi moriamo ancora Magari Però Almeno diamo Un'occhiata La stamina Torna subito su Quindi Non c'è problema Che poi mi chiedo Quanto siano grandi Se le formiche Sono grandi così Questo è proprio Un microscopico Ok Ho recuperato tutto Lo stuzzichino Dov'è? E qui lo stuzzichino Ha recuperato vita? Sì Mannaggia lui Ma attacca con un mattarello Non è un gran problema Allora Ok Picchia Se picchia E quando fa Quell'attacco lì Ok Lo stuzzichino è andato Scienza pura Abbiamo recuperato Quindi per fare ricerca Guardate che bello Questo Non si distrugge Figo Abbiamo trovato una base Dobbiamo esplorare Questa base qui E capire Aiuta Borg Ti copro le spalle Dammi solo un secondo Ah lo aiuto Lo rialzo È un robot Grazie per l'aiuto Sono Borg Direttore scientifico Ad Interim Per questo progetto Sono anche un robot Ok Sono sicuro che tutto questo Deve essere molto Disorientante per te Ma posso spiegarti Sospetto che i ricercatori Della Ominent Ti abbiano rimpicciolito E messo qui Purtroppo Sono solo congetture Perché uno sbalzo di tensione Ha messo fuori Uso tutti i sistemi Bene Immagino Tu non hai Nulla a che fare Perché con tutto questo Batterie sono con Le tenete scariche Dovremmo ricaricarle Figo Che cos'è questo? Ho preso scienza Analizza Sì Lampada Ok Perfetto Molto bene Niente Poi mi informerò bene Su cosa serve la scienza Ho delle domande per te Qualcosa da farmi fare Ci da anche le missioni Ogni giorno ci da Ah Per i punti scienza Figo Figo Bellissimo Bellissimo ragazzi Oh fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere cosa ne pensate Di questo Grounded E alla prossima Ciao ciao